Si balla, si balla, si balla o almeno questa è di vera molto più. Max, ma guarda che da qua vedo che effettivamente ci sono anche personaggi maschili, eh, Love Live. Attenzione. Quindi ti si apre una carriera, Max. Buona sapersi. Lo farai. Buona sapersi, grazie per la dritta, ci faccio una pensata magari a lungo termine. Ok, il prossimo numero 22 per la giuria è una coppia, loro sono David e Sharon che da Love Live Sunshine interpretano Enrico Sakura Uchi e Yoshiko Tsushima. Un bel applauso! Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie, grazie ragazzi. Grazie di averci aperto un mondo perché adesso noi ci abbiamo scoperto che l'off live è attivo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.